Avviso, in questo video ci saranno tante e tantissime cadute come potete vedere Per fortuna era tutto morbido quindi è stato come cadere sulle nuvole E ora sigla! Vi spiego brevemente, con Sofia Campana di Sofialand siamo andate in un posto super figo dove si salta e si fanno capriole Con Sofia abbiamo fatto una challenge che pubblicheremo sul nostro canale dopo questo video E una challenge che trovate sul canale di Sofia, andatela a vedere E mentre Sofia era distratta abbiamo fatto delle challenge da Soleil e Sara Primo percorso super pericoloso è quello degli anelli volanti, vediamo chi ci riuscirà Vai vai, inizia tu, ok, sei sicura? Sì Di quello che fai? Ciao, ciao Ciao E dai, devi prendere questo Oh mamma, una spaccata volante Ma manca che spaccata Sembrava una formica impazzita, ve lo giuro Game over per Giorgia Ma dai, questo è difficile È il momento di Sara Madonna, ma adesso che faccio? Tutti si muovono tutti Ma dai Sara, non ti spaventare, ce la puoi fare Ok, ok, veramente difficile Game over per Sara E adesso la sfida delle rocce di lava La prima a cominciare è Giorgia 3, 2, 1 Beh, devo dire che se la sta cavando bene Sta cavolata Ti giuro E anche Sara, beh, questa volta ce l'hanno fatta entrambi a quanto pare Vabbè, questo è per bambini, piccoli, piccoli, piccoli E ora è il momento della rete delle scimmie Da questa caduta iniziale non sembra molto semplice In questo caso a iniziare sarà Sara Game over per Sara E ora Giorgia Vediamo chi è la scimmia più scimmia di tutti Game over anche per Giorgia Se no è salite qua sopra e vi buttate giù a peso morto Come ci ha consigliato il nostro super videomaker ci buttiamo nel vuoto Io vi voglio buttare a peso morto Anche io Andiamo È tipo un trampolino Ma non mi faccio male, sei sicuro? Ma è alto Oh no, Giorgia, questo è molto sleale E adesso è il turno di Giorgia Sara, che fai? Non glielo fai? Uno scherzo Ma guarda, non ce l'aspettavamo proprio da te super vindicativa Oh mio mio Ma io mi giusto a peso morto dai Ma lo fai davvero? Lo faccio davvero? No, lo stavo in fare Uno Due Tre L'hai fatta Ragazzi, il cuore mi sta fattando da fuori Come è stato? È stato una cosa mai trovata Davvero? Sì Davvero Ti devi lasciare andare Non ci riesco Dai, fallo Giorgia, non ci riesco, non si dice Viaggio Dai, dai, Giorgia, ce la puoi fare Brava, ce l'hai fatta Dai, sei sopravvissuta, vai Vieni Immagina quando ti lanci dal budget jumping A questo punto inizia la sfida del basket Abbiamo cinque tiri ciascuno Chi fa più canestri vince Primo tiro, andata a segno Secondo tiro, fuori Devi saltare Una caduta ci sta sempre bene Brava, quanti ne fatti? Tre No, quanti calestri ne fatti? Tre Tre Ok, adesso facciamo È il momento di Sara Ecco, bravo Incredibile Sara sta sempre per terra È il momento del suo terzo tiro Oh no C'è neanche uno Vediamo il quarto Sì, ce l'ha fatta Evviva Ultimo e quinto tiro Vediamo Sì, anche questo Guardate come insulta Era felicissima Quindi, ricapitolando Giorgia a tre Sara a due Quindi la vincitrice è Giorgia Dai Sara Non prenderla troppo a male La prossima volta ti rifarai Ecco la sfida di Liliane Nella giungla La prima di iniziare è Sara Ok Vabbè, non vedo che fai Sì, stendice Brava Brava Questa è il primo esercizio che finiamo Sì, che finisco io, no? Se ce la fai tu ce la faccio anche io Vabbè, vediamo Ci sono Vai, Giorgina Vai, Giorgina È facilissimo È facilissimo Questa Sì È una cavallata È una cavallata Sì, la fai tu Giorda, non cadere Giorda, non cadere Ce l'ho fatta Primo esercizio Ce l'hanno fatta La challenge è finita Se volete vedere la challenge Che abbiamo fatto con Sofia Sul suo profilo Andate sul suo profilo Siamo pronti Per la challenge Ciao a tutti Ciao a me Ciao a tutti In questo nuovissimo super video Sono qui con due ospite Super 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 speciali Ce ne diventa le gemelle voi Sì Sì Questa è la vera notizia di oggi Sostruisco Sara Per essere un nuovo gemello Dovete vederlo Perché abbiamo fatto una challenge Ragazzi Cioè non potete capire Ma sono le twins Le più belle in tutto il mondo Abbiamo Sara e Giorgia qui Ragazzi abbiamo una challenge Super bellissima E niente ragazzi Vi lasciamo Ci siamo divertite tantissimo Il nostro amico Il protista Questa volta ci ha fatto Davide Maker Ed è stato fantastico Grazie infinite Per il vostro supporto Iscrivetevi al canale Mettete mi piace Commentate Attivate la campanellina Vi vogliamo tanto bene Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti